Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters Hey sister, go sister, soul sister Buonasera a tutti gli spettatori del vlog, benvenuti a una puntata di street pretattica con la Sporting Victoria Non una normale pretattica, perché ogni calciatore che vi presenterò vi tognerò un indume No, 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 non mi riprende che sono qui Partiamo dal portiere Confermatissimo, come al solito, abbiamo Jacopo Lamazza Serrani Ciao a tutti E via giù In persone centrale E qui si parla di un grandissimo calciatore Stiamo parlando dell'onipresente Alessandro Michele Terzino destro Terzino destro abbiamo Daniel Tronista Drago Terzino sinistro abbiamo colui che ha il più grande vizio del gol mai appurato dalle... Abbiamo Roberto Ezequiel Danima Gonzales Blanco, Zubis Nazario Maggiore Ogni pretattica si aumenta il nome Vabbè bellissimo Questa è strip pretattica con lo Sporting Liverpool Pensa un po' a bello Abbiamo... Non rovinare la sorpresa Non rovinare la sorpresa Tranquillo, tranquillo Davanti alla difesa Abbiamo il ragazzo col pistolino più piccolo E abbiamo Gabriele Ermellino Palazzotto Non ridere Non c'è... Non c'è... Non c'è... Abbiamo poi... Sì, è la maglia Questa qua è sicuramente brutta pretattica Abbiamo... Mezza punta Confermatissimo anche lui Niccolò Capello Detto anche Spider-Man Vero Capello? Sì Delle regnettele Abbiamo Punta Anche lui super confermatissimo Abbiamo... Lorenzo Mangiacaviglia e Pitto Si gioca a centrale? Io... La centrale di... Attenzione, siamo arrivati quasi alla sorpresa di Nano Perché... In panchina abbiamo... Che farò Lauro Che non gioca a causa... Del piercing Quindi non si può Ma forse fai con calciatore solo Bracciarezza... Ah, ma tanto no, non contava perchè non era un calciatore Ah, è vero Abbiamo l'altro panchinaro, abbiamo... Vertica per palo, detto anche Merchia Per chi ha... Per chi ha potuto vedere il video... E ora... L'ultimo Nooo... 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 Però questo... Il compagno è di tutto L'altro panchinaro è il capocaminiere del campionato Che è... Saracco morto, Fabrizio Fabri... Nooo... E ora la sorpresa di tutti i miei telespectatrici La sorpresa, questa è la sorpresa ragazzi Volevo uscire a me qua Mi piacerebbe, mi piacerebbe... Dov'è Jacopo? Era super confermatissimo, Jacopo l'ammazza